Siete pronti a seguire le mie istruzioni ad occhi chiusi? Intanto vi auguro un benvenuto in questo video di ASMR Therapy Nel caso in cui questo tipo di contenuti vi piaccia vi ricordo di iscrivervi al canale e di lasciarmi un like se questo video è stato di vostro gradimento Grazie E allora partiamo con il primo trigger Non chiudete ancora gli occhi perché prima dovete vederli Io riprodurrò una serie di suoni con questi due triggers molto carini Quindi con il rosso e con il rosa Tu dovrai tenere gli occhi chiusi e dovrai dirmi se il suono riprodotto è stato fatto con il trigger rosso oppure con il trigger rosa Molto semplice E allora ti chiedo di chiudere gli occhi e di non guardare perché stiamo partendo Molto semplice Molto semplice E allora Molto semplice Molto semplice IlMano Molto semplice OOD ri Allora, che trigger era questo? Rosso oppure rosa? Passiamo a un suono e dovrei dirmi quale dei due è questo. Continua a tenere gli occhi chiusi. Passiamo a tenere gli occhi chiusi. Passiamo a tenere gli occhi chiusi. Passiamo a tenere gli occhi chiusi. Sarà questo? Rosso oppure rosa? Ne farò altri due e dovrei dirmi, come sempre, quale dei due ho utilizzato. Passiamo a tenere gli occhi chiusi. Passiamo a tenere gli occhi chiusi. Allora, ho utilizzato per prima il trigger rosso oppure quello rosa e intanto passiamo avanti. In questo esercizio ti chiederò di indovinare i colori delle luci che utilizzerò. Se vuoi potrai sbirciare, però non dovrai fissare perché la luce è troppo forte e potrebbe darti fastidio, per cui prova a intravederla prima attraverso le tue palpebre. Se non ci riesci, prova a sbirciare leggermente, giusto per far interpellare il colore e via. Ok, sentirmi di che colore era questa luce. Bene, e chiudi gli occhi molto bene e prova a indovinare invece questa luce di che colore è. Allora, sai dimmi di che colore era anche questa luce? Ok, erano verde e bianca. Il prossimo esercizio consiste sempre nel farti tenere gli occhi chiusi, quindi rimani sempre con gli occhi chiusi. Utilizzerò due diversi suoni e tu dovrai dirmi quale dei due oggetti è più soffice. Partiamo subito. Partiamo subito. E l'altro suono è questo. Mi raccomando, non sbirciare. E l'altro suono è un'esercizio. E l'altro suono. E l'altro suono è un'esercizio. E l'altro suono. E l'altro suono. Allora, quale dei due era più soffice? Il primo, oppure il secondo suono? Ti lascio pensare per un po'. E secondo te la tipologia di questi due oggetti che ho utilizzato sono due oggetti completamente diversi? Oppure si può trattare di un oggetto simile o uguale? Allora, adesso puoi aprire gli occhi e questi sono i due oggetti. Quindi questo era quello più soffice, come puoi vedere, e questo era quello un po' più solido. E la risposta alla seconda domanda è che la tipologia di ogni oggetto è la stessa. Quindi sono due piume. Ok, ti chiedo nuovamente di chiudere gli occhi. E adesso ti chiederò di dirmi quale di queste due luci è più intensa, quindi più forte. Mi raccomando, tieni gli occhi ben chiusi perché sarà fastidiosa. E cerca di intravedere la luce soltanto dalle due palpebre, rivolte ovviamente verso lo schermo. E questa intanto è la prima luce che cerca di rilassarti con i suoi movimenti lenti. Adesso passiamo alla seconda e tu dovrai dirmi quale di queste due luci è più intensa. E anche questa con dei movimenti molto lenti. e cerca di farti rilassare attraverso le tue palpebre. Ok. Quale delle due luci a tuo avviso era più intensa? La prima o la seconda? Era la seconda. Ok, passiamo al prossimo esercizio in cui ti chiederò di dirmi nel quale orecchio senti il suono. Ovviamente per questa parte è molto probabile che ti servano le cuffie che io raccomando sempre. molto amo. Ancora. Oh, bello. E buon aiutare? No, bello. È bene. No, è bene. Ho, bello, è bene. Oh, bello. Allora, come. un po' di più il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info www.mesmerism.info Ok, tu avrai avuto modo di capire da quale orecchio ti arrivava il suono. E intanto passiamo al prossimo e ultimo esercizio nel quale ti chiederò di dirmi il suono che senti è più vicino a te oppure è più lontano a te rispetto a quello appena sentito. Quindi questo suono lo senti vicino o lontano? Sempre ad occhi chiusi e adesso questo suono è più vicino a te rispetto al suono precedente oppure è più lontano? Cambio la distanza più vicino o più lontano rispetto a quello precedente E adesso? Ok, io spero che questo video ti abbia rilassato tantissimo e se l'ho fatto lasciami un commento. Grazie e intanto ti auguro la buonanotte Grazie a tutti!